Il municipio di Pratola Pelligna ha ospitato la presentazione ufficiale della squadra di calcio e dello staff tecnico-dirigenziale dei Nero Stellati alla presenza di diversi sportivi, oltre che del primo cittadino Antonio De Crescentis. Una cerimonia aperta dal saluto del presidente della società Nero Stellata Gianluca Pace che ha ripercorso il cammino di una compagine ripartita dal campionato di terza categoria passando per l'acquisizione del titolo sportivo del Goriano Sigoli e arrivando alla vittoria dei play-off a promozione per sancire il ritorno del calcio cittadino in eccellenza a distanza di 23 anni dall'ultima partecipazione alla massima serie regionale. Il numero uno Nero Stellato ha rivolto anche un ringraziamento ai collaboratori, a tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati dando supporto ad una struttura dirigenziale alle prese con il completamento di una squadra chiamata a conservare la prestigiosa categoria all'alba della nuova stagione che si aprirà con il match di Coppa Italia contro il quotato paterno in programma domenica 28 agosto allo Stadio Zioricci. Il sindaco De Crescentis nell'accogliere giocatori, staff tecnico e dirigenti della Casa Comunale si è mostrato gratificato dalla scelta del club Nero Stellato di optare per l'assiste civica quale sede di presentazione di una squadra e una società alla quale, così come per le altre realtà sportive cittadine, si cercherà di dare tutto il supporto possibile affinché il nome di Prato La Peligna trovi un efficace veicolo di promozione in fatto di risultati sportivi che in termini di rilevanza immagine in un panorama calcistico che annovera realtà di grande tradizione e di indubbio blasone. A margine della cerimonia è stato presentato il volume La Storia Siamo Noi, un'iniziativa editoriale realizzata dal responsabile stampa Nero Stellato Andrea Di Meo con il sostegno della banca di credito cooperativo di Prato La Peligna e dell'azienda Trasporti di Nino, il libro di percorre l'ultima cavalcata trionfale dei Nero Stellati in una cornice calcistica pratolana ultracentenaria. Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia, e la frase, il pensiero da cui prende origine il titolo del volume che permette di rileggere la recente impresa dei Nero Stellati. Presidente Pace, a margine della presentazione della squadra che si cimenterà nel nuovo campionato di eccellenza, ripercorriamo un po' quelli che sono stati i concetti del suo intervento. C'è stato un ringraziamento alle varie componenti che hanno supportato la sua società e poi anche un messaggio alla città di Pratola ai vari livelli e istituzionale e di comunità. Sì, dopo questo grande risultato che abbiamo ottenuto dopo 23 anni, ci troviamo in un campionato che quest'anno sicuramente sarà un campionato molto difficile a livello sia strutturale e a livello anche tecnico. Sono convinto che comunque i ragazzi riusciranno a fare un buon campionato perché sono fiducioso, vedo tanta voglia, tanta volontà, cosa che forse l'anno scorso era un po' meno, anche perché la società era giovane, aveva poca esperienza, esperienza che abbiamo maturato quest'anno. Ci troviamo quest'anno a competere con squadre che sono delle vere e proprie corazzate, almeno sulla carta, ma sicuramente vedo nei ragazzi tanta voglia di far bene, tanta voglia di fare qualcosa, di continuare a credere in questa avventura che stiamo costruendo insieme. Il mio appello non è un appello fine alla comunità di Pratola Peligna, ma è un appello a livello della Valle Peligna, a livello di tutta la Conga. Siamo la massima espressione calcistica a livello della Valle Peligna, sicuramente abbiamo tante possibilità e tanta voglia di far bene, infatti lo dimostra il fatto che la rosa nostra è composta da ragazzi provenienti da quasi l'intera valle. Abbiamo cercato di fare un raggruppamento di eccellenze, pensiamo di poter fare un buon campionato, quindi il mio appello è voto a tutta la comunità della Valle Peligna e di continuare a spingere verso la stessa direzione, quella di mandare il nome anche al di fuori del paese Pratola. Passiamo un po' alle cose più strettamente del campo, Presidente, una squadra a lavoro fino al 14 agosto a Pettorano, poi probabilmente si proseguirà lì, ancora è in fase di individuazione, l'impianto nel quale proseguire la preparazione, una Nerostellati reduce da due amichevoli, una Nerostellati che probabilmente andrà ad attuare ancora qualche innesto per completare la rosa? Rimarremo fino a Pettorano, forse qualche altro giorno in più rispetto al 16, penso fino al 20 saremo a Pettorano. Stiamo ultimando delle migliorie all'interno della struttura del campo d'Alesio Ricci, quindi stiamo lavorando anche non solo sulla squadra ma anche a livello infrastrutturale per cercare di migliorare anche e accogliere in maniera un po' più decorosa tutta la tifoseria che accorrerà a presenziare le nostre partite. Sicuramente la rosa nostra è una rosa già molto competitiva, abbiamo fatto di qualità, abbiamo fatto quasi un innesto per reparto e andiamo a consolidare quello che è già un organico ben definito. Quello dove puntiamo noi principalmente è la forza giovane, la forza dei ragazzi, i nostri ragazzi, tutti quei ragazzi che comunque sia già da un progetto che è nato da qualche anno a questa parte si trovano già a essere tesserati presso la nostra società e credono in questo progetto anche loro. Vedo in questi ragazzi, 16, 17, 18 anni, che hanno una grande voglia di mettersi in mostra e noi daremo la possibilità a tutti quanti di poter calpestare il palcoscenico dell'eccellenza. però sempre devono misurarsi con dedizione e con lavoro sugli allineamenti e sul campo. Presidente, quindi qualcosa di più che una salvezza magari conquistata all'ultimo minuto dell'ultima partita, un Pratola che vuole essere minavacante di questa eccellenza? No, minavacante no. Noi siamo una società solida, siamo una società seria, composta, cercheremo in tutti i modi di arrivare alla salvezza il primo possibile. Sicuramente non saremo una minavacante, siamo una società che ha un intendo, ha una linea guida e sarà difficile battere i nerostellati. Siamo con il primo cittadino di Pratola Peligna, De Crescentis, dunque un'istituzione, quella comunale che è stata vicino a questa squadra e lo sarà anche nel futuro prossimo. Questo certamente vicino a tutti gli sporti, in particolar modo ovviamente in questo caso al calcio e ai nerostellati, perché quello che è successo l'anno scorso è sotto gli occhi di tutti, è stato un successo, hanno regalato non solo tante emozioni durante la stagione, ma anche una grandissima festa dentro la piazza principale della nostra comunità che ha fatto vivere e rivivere quei momenti. Quindi è il mio grazie personale al Presidente, alla società sportiva, ai ragazzi che hanno sudato in campo con il mister tutte le partite, una fino alla fine, fino a quella bellissima finale. Adesso siamo qui in questa sala consigliare, io ho apprezzato molto la scelta del Presidente di chiedere al Sindaco di fare qui, in questa stanza, che è una stanza formale, ma che invece ha un suo ruolo importante per lo sviluppo di una comunità. In questa sala, in questi banchi, da questi banchi si decidono le sorti di una comunità, si decidono spesso, si va verso il progresso di una comunità, almeno ci si prova a portarla verso il progresso, e sicuramente nel progresso è anche il calcio, è anche questo tipo di attività sportiva, una disciplina che avvicina tanti bambini, tanti ragazzi. Io faccio sempre il mio invito forte al Presidente a fare in modo che il settore giovanile venga curato bene, perché ha una sua funzione sociale, ma poi ha anche una grande funzione come il vivaio per la società sportiva, perché sarebbe veramente bello che qui ai prossimi dieci anni i nero stellati avessero una rosa fatta di tanti cittadini dalla Valle Peligna. Questo è il mio auspicio, è l'auspicio anche del Presidente. Per me è stata una bellissima occasione per rivivere quella stagione, la stagione scorsa, ma soprattutto è stata l'occasione per fare il mio personale in bocca al lupo ai ragazzi, invitandoli a rispettare l'avversario, ma non avere mai paura di nessuno. Sindaco, in molti casi, nelle varie realtà e nelle varie discipline, viene invocato il supporto delle istituzioni, in particolar modo quello dei sindaci. In cosa consiste, andando un po' più nel concreto, in cosa consiste questa mano che dovrebbero dare sempre le istituzioni a una società? Beh, intanto, adesso vado sul politico, ma vi ho trovato sulla sostanza, purtroppo gli enti locali, in particolare i comuni, soffrono tantissimi dettagli che ormai da tanti anni subiamo dal Governo. Questo è sotto gli occhi di tutti e cerchiamo di fare, come dire, i salti mortali per tenere in piedi il binancio. Però, nel nostro caso, cerchiamo innanzitutto di mettere a disposizione tutto quello che c'è. Stiamo lavorando nel nostro piccolo, intanto consentendo alla società di fare tutto quello che serve, perché già questo, per noi ci lascia più tranquilli. E poi, con una piccola somma, anche noi interverremo, ma veramente irrisorio rispetto all'investimento utile e necessario sull'impianto sportivo. Quello che faremo sempre, saremo sempre presenti. Stiamo già cercando di capire come fare per reperire finanziamenti importanti per l'impianto, perché in realtà l'impianto abbisognerebbe di importanti, come dire, interventi di rinnovamento. Su quello, però, noi manterremo alta la guardia. Esistono bandi regionali ed europei sui quali possiamo partecipare. Normalmente i bandi li vinciamo e quindi, su questa cosa, assumo un impegno personale a che si possono reperire altrove risorse utili per lo sport, per il Presidente Pace, ma per tutti quelli che vogliono praticare sport nell'impianto di Via Perraiano, ma soprattutto in tutti gli impianti sportivi del Comune. Un progetto, per finire, un progetto identitario che si propone non solo di rimanere a Prato, ma essere punto di riferimento nella Valle Peligna, in generale. Sì, senza voler togliere i ruoli a nessuno, però questa è una comunità che ama, come dire, gareggiare, ama quando si può anche vincere, sempre in rispetto dell'avversario, ma qui non abbiamo avversario, abbiamo altre comunità vicine che purtroppo per altre esperienze e per vicissitudine diverse non hanno più un calcio attivo nella propria comunità e quindi questa vuole essere una società, una comunità che vuole essere riferimento, come dice bene il Presidente, per le altre comunità. Tutti quelli che vogliono venire a giocare a calcio, tutti quelli che possono giocare a calcio, ma soprattutto anche le imprese che vogliono collaborare, perché questo è importante. Nella società, dando un contributo all'impianto societario per fare in modo che abbia le gambe per andare avanti, sono i benvenuti. non abbiamo mai aperto, come dire, sollevato reti, abbiamo sempre aperto i nostri confini sia politici che sportivi. grazie.